Salve amici bentornati nel canale ricette fai da te. A novembre durante le mie passeggiate mattutine spesso incontro la pianta di timo. Mmm che profumo! Erba medica riconosciuta sin dai tempi antichi. Oggi voglio andare a trapiantare in vaso questa pianta e lo facciamo insieme. Estraggo la pianta direttamente con le radici dal terriccio. Avvolgo le radici il nostro finaccio di cotone o carta bagnati e lascio riposare in un luogo fresco e buio per tre giorni. Trascorsi tre giorni riempio un vaso di terra. Estraggo le radici dal tovagliolo. Mmm bene è ancora umido. Faccio un buco al centro del vaso un circa 20 centimetri di profondità e ci adagio le radici. Le ricopro accuratamente di ferriccio. Nel frattempo vi invito ad iscriverti al canale amici. Attivare la campanellina tutte le notifiche. Condividere il video tra amici e parenti. Alla fine regolo la superficie, pressando delicatamente. Poi innaffio, gettando l'acqua direttamente alle radici. Posiziono il vaso a destra e torno ad innaffiare tutti i giorni. Dopo cinque giorni ecco il risultato. Dalle radici fuoriesce già una piantina. Bene, adesso ho anche il timo invaso a costo zero perché l'ho prelevato direttamente dai campi incolti. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!